Perché parlavamo dei nazionali, veniamo dopo considerazioni sulla nazionale, qui togliamoci un dente e mettere il dito nella piaga, perché la nazionale dopo la tua carriera ti piacerebbe, dopo un anno così sarebbe stato bello avere anche questo regalo. Sì, l'ho sempre detto, il mister sta seguendo un certo percorso e giustamente è giusto che sia così e io magari se continuo a far bene fino a fine anno, magari una convocazione per un amichevole sarebbe molto bello, sarebbe gratificante per noi, però la tifo per la nazionale la guarderò, tifo per Emiliano, speriamo che vada bene e spero che il mister riesca a costruire qualcosa di buono perché non sarà semplice, gli auguro l'immigrazione. Intanto però, tu qui a Bologna ti diverti, 18 gol, il 60% dei punti che ha questo Bologna e sono 43 di fatto, anche se sono perché c'è la penalizzazione, sono frutto del tuo gol, dei tuoi gol, allora che cosa succede? Diciamo che il tuo contratto sta per essere firmato, che l'accordo c'è dei tuoi anni, due anni ancora. Ci siamo accordati con la società, adesso manca soltanto di ratificare il tutto, abbiamo trovato l'accordo ma era normale che era così perché io volevo rimanere qua, la società mi voleva tenere, dunque non c'è stato mai un minimo di problema sotto questo punto di vista. Sono felicissimo perché realizzo il mio sogno, quello di terminare la carriera qua a Bologna perché era quello che volevo e dovrei dare grazie a questa società che anche in un momento di difficoltà, come quello che abbiamo appena attraversato, che stanno sistemando, hanno trovato la forza economica per sistemare il mio contratto e di questo ci sono molto grato. Ecco diciamo che se vogliamo è una situazione molto particolare quella del Bologna, l'azionariato è diffuso, tanti soci, in questo momento fra l'altro la notizia di questi giorni, Cazzola, l'ex patron dal 2005 al 2008 con la promozione in serie a Ritorno, Marco, ritorna come socio di maggioranza e sarà il prossimo amministratore delegato e forse anche il prossimo presidente. Mi dà un giudizio sul suo ritorno, su questa persona, sull'evolversi della vicenda? La cosa bella penso di tutta la vicenda è che lui è stato voluto dai soci, dunque l'hanno richiamato loro, lui è un uomo vincente e qua a Bologna qualsiasi cosa che abbia fatto l'ha fatta al massimo dei livelli, dunque è una speranza per noi che possa riportare insieme agli altri soci, in questo nuovo progetto, possa riportare il Bologna dove merita, dove deve stare, una società solida, sana, con un progetto importante e soprattutto che abbiamo la possibilità di dare seguito a questo campionato, di cercare di stare in questa parte della classifica anche nel futuro perché è tutto quello che sognano i nostri tifosi, quello che sogniamo noi come giocatori e speriamo che si possa avverare. Ecco, si passa anche attraverso la conferma, penso, del contratto di Malesani e anche del direttore Longo, loro viaggiano in coppia e per far decollare un progetto, almeno due anni, bisogna che queste due persone ci sono, tu capitano sei sempre stato interpellato su questo, vero? Io abbiamo parlato anche con il mister, la squadra si è trovata benissimo con lui e lui lo sa, noi vogliamo che lui rimanga perché quando trovi una quadratura come abbiamo trovato noi in un momento così difficile è normale che tutti vogliamo che le cose rimangano così come sono perché già ci conosciamo, abbiamo portato momenti difficilissimi insieme, ci conosciamo benissimo e dunque io mi auguro che il mister insieme a lungo possano trovare un accordo con la società per continuare questo progetto insieme perché potremo partire da basi molto solide l'anno prossimo e potremo fare, se le cose andranno bene, un buon campionato. Mi sente il capitano rosso-blu? Sì Marco, noi settimana di riflessione, visto che c'è la nazionale, allora riflettiamo su un po' di cose, anche sul fatto di voi, ultra trentenni terribili, ancora in grado e come no, di decidere le partite penso a te, penso a Totti e penso a Del Piero e ci chiedevamo, ma allora fanno questi campionati perché non ci sono più i difensori di una volta? Perché le rose sono più ampie quindi c'è più riposo per tutti? o magari è una questione di preparazione che è cambiata negli anni o è solo quello che i tuoi genitori ti hanno messo nel biberon quando eri in culla? Marco? No, ma io penso che sono cambiati i giocatori secondo me e la professionalità, il modo di pensare, di affrontare il calcio, si è allungata la carriera. Adesso noi abbiamo la fortuna di venire da un decennio dove ti preparavi bene, dove ti allenavi bene, dove il livello di professionalità si è alzato e dunque se sei stato un buon giocatore negli anni passati hai avuto la fortuna di avere grandi infortuni e ti sei curato bene e hai la possibilità di continuare ad alti livelli fino a 34-35 anni, 4-5 anni più avanti rispetto a quello che poteva succedere dieci anni fa. non è un caso secondo me se siamo tanti giocatori a poter decidere ancora le sorti di una partita, a fare gol e essere decisivi per la propria squadra perché adesso è iniziato Maldini, è iniziato Costa Curta, poi adesso c'è Zanetti, c'è Alessandro Del Piero ma ci sono tanti giocatori che sono importanti nelle proprie squadre, vuol dire che adesso l'età della carriera di un calciatore si è alzata e se sei un bravo professionista puoi continuare ancora per un po' di tempo a divertirti, è quello che stiamo facendo un po' tutti noi. Però Marco a tutto quello che hai detto tu bisogna anche aggiungerci Bologna perché ormai non è più un caso l'ha fatto Baggio, l'ha fatto Signori e lo stai facendo tu, hai detto che vuoi chiudere la carriera lì che cosa c'è a Bologna che vi allunga e vi migliora la seconda parte della carriera? Il modo di vivere, di rapportarsi da parte della città con la squadra, c'è grande passione, c'è grande storia però allo stesso tempo c'è grande rispetto per l'uomo, per la sua praia e con la sua famiglia e devo dire che quando arrivi dopo una carriera importante, come hanno avuto Baggio, Signori, un po' meno importante la mia però comunque dove ho girato tanto e trovi un posto come questo, ti dà la possibilità di continuare a giocare, divertirti e essere ancora un giocatore importante. Io devo tutto alla città, alla società perché mi hanno dato la possibilità di tornare un giocatore nuovo, di essere un giocatore ancora importante, dunque devo tutto a questo ambiente per questo parlavo di sogno prima perché io quello che volevo era rimanere qua per ringraziare anche tutte queste persone che mi hanno voluto bene dall'inizio e volevo ringraziarli rimanendo qua e cercare di fare il mio meglio fino alla fine della carriera.